25 aprile 2013, sul ponte di collegamento fra l'isola di Ischia e il castello di Aragona. O Aragonese? Castello Aragonese. La regia non mi aveva informato in tempo. Acqua da entrambe le parti, questa striscia di asfalto, moretti e scogli. Che, quanto sarà lunga, regia? Questa striscia di collegamento fra il castello e la mia isola. Ammazza come l'ho costruita bene. 200 metri. Una campana. L'ora è tre e mezza, se l'udito non mi inganno. Bene, andiamo a conquistare il castello per voi. Grazie. Grazie. Grazie.